Continua a scendere il numero dei nuovi contagiati in Sicilia, probabile effetto dei tre giorni di zona rossa nazionale durante le festività pasquali. I nuovi positivi nell'isola ieri sera erano 783, 126 in meno rispetto al dato precedente. Netto miglioramento per la provincia di Siracusa, che passa da 26 nuovi contagi a tre soltanto. Un dato confortante che stride però con quello sempre in ascesa di Palermo, che ha costretto il presidente della regione nello Musumeci a firmare l'ordinanza con la quale trovano applicazione nel comune di Palermo le disposizioni nazionali per le zone rosse. Il provvedimento ha efficacia fino al 14 aprile compreso. Anche alle scuole si applicheranno le disposizioni nazionali, quindi le attività scolastiche e didattica saranno in presenza solo fino alla prima media compresa. Per tutte le altre attività scolastiche è prevista la DAD. Musumeci è anche prorogato, sempre fino al 14 aprile compreso, come richiesto dai primi cittadini e visti i pareri positivi e delle ASP competenti, la zona rossa nei comuni di Caltanissetta, Caltavuturo in provincia di Palermo, Palma di Montechiaro nell'Agrigentino e Scicli in provincia di Ragusa. Il dato dei ricoveri per coronavirus negli ospedali siciliani vede un incremento complessivo di 59 unità, così come riportava ieri sera il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 160 persone, due in più rispetto al giorno prima. Il dato dei guariti è pari a 23 persone, 13 sono i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 5.270, quelli rapidi 6.499. Questo comunque è il report complessivo dei nuovi positivi nelle province della Sicilia. 4 ad Agrigento, 43 a Caltanissetta, 197 a Catania, 11 a Enna, 124 a Messina, 352 a Palermo, 46 a Ragusa, 3 a Siracusa, 3 a Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono state 864.869. Il presidente Musumeci intanto ha tenuto un vertice al palaregione di Catania con tutti i direttori generali della sanità siciliana per fare il punto sull'andamento dei contagi e sul potenziamento dei punti vaccinali nelle nuove province dell'isola. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, altro tema dell'incontro, si è stabilito di creare una ventina di punti di somministrazione in tutta la regione per aggiungere le 50.000 dosi, secondo il programma predisposto dal commissario generale Figliuolo. Le postazioni saranno allestite dalla Protezione Civile regionale già dalla prossima settimana.